Presento alcuni ordini del giorno, la mia prima firma, il primo è quello sulla metrotranvia Milano-Limbiate, una vecchia linea di 7 chilometri e mezzo che collega Milano-Comasina con Limbiate passando per Cormano, Paderno-Dugnano, Senago, Varedo-Limbiate. È una vecchia linea come dicevo che è versa in condizioni critiche, si parla ormai da tanto tempo di riqualificarla, nel 2012 c'era stato un primo accordo sulla ripartizione degli oneri finanziari tra tutti i soggetti interessati che però ormai è stato superato anche perché il Governo l'anno scorso ha ritirato il suo finanziamento stornandolo verso Expo. Quindi ora siamo in una situazione di stallo sostanzialmente, la situazione si è aggravata perché la linea oggi da poche settimane a questa parte ha visto comparire nuovi limiti di velocità a 30 all'ora per motivi di sicurezza e pare che sia necessario un piano di ristrutturazione della linea in mancanza del quale si andrebbe verso la chiusura. Quindi noi cosa chiediamo con questo ordine del giorno? Di convocare tempestivamente un tavolo tra tutti i soggetti interessati per far ripartire il progetto di riqualificazione e contestualmente anche promuovere un immediato piano di risanamento della linea esistente affinché il servizio venga garantito. Vado velocemente al secondo ordine del giorno che è quello che riguarda la metropolitana M5, il prolungamento verso Monza. Se ne sta parlando tanto, è entrato anche nel patto di Milano, i soldi ancora non ci sono. Con questo ordine del giorno chiediamo che la Regione faccia la sua parte nel reperire le risorse e nel coordinamento con il Governo e gli enti locali affinché si proceda il più velocemente possibile alla stesura del progetto esecutivo. Terzo e ultimo ordine del giorno riguarda la metropolitana M2, prolungamento vimercata, anche questo progetto che se ne parla da decenni, anche questo pare progetto andato nel dimenticatoio, tante difficoltà, non è entrato nel patto per Milano. I sindaci però sono tutti molto determinati, quelli interessati nell'avere questo prolungamento della M2. C'è un vecchio progetto che prevede l'interramento completo della tratta, che non è sostenibile dal punto di vista finanziario, per cui noi chiediamo che si riveda il progetto valutando anche delle alternative leggere, sia dal punto di vista dell'impatto dei lavori che soprattutto quello economico-finanziario, in modo tale da rendere questa opera appetibile, efficiente e compatibile con le risorse disponibili. Grazie.